Buonasera, buonasera a tutti. Intanto saluto il professor Giovanni Rezza che è il direttore del Dipartimento malattie infettive parassitarie e immunomediate infettive e basta dell'Istituto Superiore di Sanità. Ringrazio anche Susanna Di Pietra che rientra qui alla nostra conferenza stampa. Partiamo con i dati di oggi. Oggi si conferma una diminuzione del trend di crescita dei contagiati con un incremento complessivo delle persone contagiate di 3.039 rispetto a ieri. Ad oggi dunque il totale delle persone attualmente positive è di 94.067 con una crescita di soli 880 pazienti rispetto a ieri. E' l'incremento più basso registrato dal 10 marzo scorso. Come nei giorni scorsi si allenta anche la pressione sugli ospedali per quanto riguarda le persone ricoverate e le persone ricoverate in terapia intensiva. Il dato che oggi registriamo è un decremento di 106 pazienti in terapia intensiva che porta il totale dei pazienti in terapia intensiva a 3.792 pazienti e di 258 ricoverati con sintomi per un totale di ricoverati con sintomi di 28.718. La maggior parte dei pazienti positivi è il 65 per cento resta in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Il numero dei pazienti positivi con sintomi o con sintomi lievi è quindi di 61.557. Oggi registriamo purtroppo anche il numero dei deceduti che è di 604 nuovi deceduti. Il totale dei guariti sale invece a 24.392 pazienti, 1.555 rispetto a ieri. Quindi è il secondo valore in assoluto in termini di guariti da quando abbiamo registrato la diffusione dell'epidemia. Passando al dato delle somme raccolte dal Dipartimento della Protezione Civile nel conto corrente dedicato, aperto per procedere al pagamento dei ventilatori e dei dispositivi di protezione individuale, il valore delle donazioni è di 110 milioni e 155 mila euro. Voglio sottolineare la grande generosità di grandi e piccoli donatori. Oggi abbiamo speso circa 19 milioni e mezzo di euro per l'acquisto appunto di ventilatori e di dispositivi di protezione individuale. Permettetemi di ricordare che oggi è la giornata mondiale della salute. Il mio pensiero va agli operatori del sistema sanitario, del servizio sanitario, che ogni giorno durante questa emergenza sono impegnati per fronteggiare la cura e il contrasto alla diffusione del virus. Stanno dando il massimo per tutelarci questi operatori e quindi voglio ringraziare i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari. Voglio anche rivolgere un pensiero e un abbraccio ai familiari delle vittime del personale sanitario che è deceduto per il contrasto al coronavirus. Io mi fermerei qui. Professore, se vuole dire qualcosa o passiamo direttamente alle domande. Prego, Professore. Solo per dire che finalmente sembra che si inizi a vedere una diminuzione del numero di nuovi casi. Se noi lo mettessimo su una curva epidemica giorno dopo giorno, vedremmo che in questo caso, finalmente dopo una fase di plateau, sembra esserci una discesa nel numero di nuovi casi. Quindi la curva tende a flettere in basso. Naturalmente siamo cauti. Aspettiamo magari domani, dopodomani, prima di cominciare a tirare un sospiro di sollievo, però la situazione sembra migliorare. Del resto, i nostri modelli matematici avevano predetto, sai, l'Istituto Superiore di Sanità, insieme alla Fondazione Bruno Kessler, da tempo ha costruito dei modelli matematici, che hanno predetto una diminuzione di quel parametro R, che vuol dire che la trasmissione stava diminuendo in Italia, in Lombardia in particolare. Questo dato sembra confortare le stime. Quindi noi speriamo di assistere a una flessione. Naturalmente bisogna essere molto cauti e bisogna sempre tenere a mente il fatto che questo virus, comunque a prescindere dalla diminuzione dei nuovi casi, resterà nella popolazione. Non è che arriviamo a zero dopo domani o fra una settimana o fra due settimane, allora tana libera tutti e tutti tranquilli. È chiaro. Bisognerà comunque sia ingaggiare una dura lotta. Forse questa è una prima battaglia che si sta in qualche modo affrontando in maniera con qualche successo. Speriamo che questo sia duraturo, ma teniamo conto che bisogna continuare a mantenere rigorosamente tutte le misure di distanziamento sociale che vengono raccomandate dalle autorità sanitarie, perché ogni rilassamento può significare una ripresa della circolazione virale. Diamo spazio alle domande. Buonasera, Giorgia Sodaro a DN Cronos. La domanda è per il professor Rezza. Oggi è stato comunicato che è pronto il primo test sierologico italiano, che è stato messo a punto dal Policlinico San Matteo di Pavia. E volevo capire se questo test fa parte di quelli che voi state validando. E poi, sempre rimanendo sul tema, il Comitato Tecnico Scientifico sta per presentare il progetto sull'utilizzo dei test sierologici, se ci può anticipare qualcosa. Sui test sierologici intanto va fatta una premessa. C'è un gruppo di lavoro del CTS, c'è un gruppo di lavoro anche dell'Istituto, di cui fa parte anche il Policlinico San Matteo di Pavia, che è uno dei più attivi nella valutazione di questi test. Sui test sierologici bisogna dire che i test sierologici non servono a fare diagnosi. Nel senso che la diagnosi si fa col tampone. Cioè, se uno ha un tampone positivo alla PCR, cioè al test molecolare, allora in quel momento è infetto. Il test sierologico può mettere in evidenza anticorpi diretti contro il virus. Questi anticorpi, però, non compaiono subito quando c'è l'infezione, ma dopo alcuni giorni. Quindi se una persona ha anticorpi vuol dire che ha avuto un'infezione, che può essere recente o passata. Per cui aiutano, diciamo, ma non sono dirimenti ai fini della diagnosi. Molto importanti ai fini di vedere se una persona è stata esposta al virus, qual è la reale diffusione dell'infezione. Perché? Perché facendo uno studio di sieroprevalenza si può vedere quante persone sono state esposte al virus, cioè si sono infettate in maniera sintomatica o asintomatica. Dopodiché, per quanto riguarda i test sierologici, adesso senza entrare nel dettaglio di questo specifico test, bisogna dire che fino ad ora le caratteristiche dei test che sono stati valutati non sono stati proprio del tutto soddisfacenti. Nel senso che la sensibilità e la specificità non era del 100%, ecco, ma ben lungi dal 100%. Per cui chiaramente bisogna... Questo è il motivo per cui si stanno valutando. Il motivo per cui il San Matteo di Pavia è uno dei centri più attivi sicuramente in questa valutazione. Però naturalmente anche su questo dobbiamo adesso vedere i risultati ed essere ed esprimere dopo e vedere quanto effettivamente le caratteristiche di questo test, come di altri, siano valide. Grazie. Quindi è in valutazione questo, sostanzialmente, tra gli altri. Sì, comunque sì. Ecco, ho detto quali sono i limiti dei test sierologici e quali sono... Sono utilissimi. Se le caratteristiche di questi test sono buone, in termini di sensibilità e specialità, utilissimi naturalmente, però ecco, vanno... Non servono a fare una diagnosi di infezione in atto. Servono a fare magari un primo screening per quanto riguarda la diagnosi e servono soprattutto per fare degli studi di sieroprevalenza a fini epidemiologici. Sì, buonasera. Sono Cecconi del Tg3. Sempre a proposito dei test sierologici. Domani la Toscana, per esempio, distribuirà i test a tutte le ASL e cominceranno a farli, a partire dalle persone che sono, diciamo, più a rischio, fra virgolette. Ci sono già anche, fra l'altro, 25 mila guariti. Queste persone, cioè chi risulterà avere gli anticorpi, già a partire da domani, dopo domani, potrà uscire di casa? Cioè dovrà comunque mantenere tutte le regole? Cioè chi è guarito e chi, diciamo, sarà certificato che ha gli anticorpi potrà avere uno status, in qualche modo, di allentamento delle misure? Lei vuol dare il patentino di immunità. No, non lo so. Chiedo a lei. Io le dico una cosa. Se io facessi un test, proprio un esempio operatico, un test anticorpale e trovassi gli anticorpi al test sierologici, io sarei contento. Per la miseria. Gli anticorpi vuol dire che sono stata risposta al virus. Sto bene. Magnifico. Però non mi avvicinerei al Dottor Borrelli più di un metro. Perché comunque sia, mi resterebbe il dubbio, è un vero risultato o è un falso positivo? Perché le caratteristiche dei test ancora non sono così studiate da potermi dire che effettivamente non si tratti di un test falso positivo. Mi dà un'indicazione di massima, diciamo. Dopo di che, questo riguarda le caratteristiche dei test, dopo di che, sull'immunità, su quanto sia protettiva e duratura, ancora c'è da studiare. Io penso che, per analogia con altre malattie infettive, probabilmente lo è. Nel senso, una volta superata la malattia o l'infezione, se si fanno degli anticorpi, probabilmente sei protetto. Però non abbiamo sufficiente follow-up per dire con sicurezza. Quindi, naturalmente, questi test possono dare delle utili indicazioni su quanto, quant'è diffusa l'infezione, quante persone sono state esposte. Io penso in Toscana abbastanza poche, se si accettano alcune aree della Regione. Ci posso dare alcune indicazioni se sono presenti o no anticorpi individualmente, però i risultati vanno presi con una certa cautela. Buonasera, sono Sabene del Tg2. Professore, una domanda per lei. Una domanda unica che ha una, come dire, duplice valenza. Rispetto al documento dell'OMS sulle misure di sicurezza e soprattutto su alcuni strumenti proprio per la sicurezza personale. Un esempio su tutti è quello delle mascherine. L'OMS ha ribadito anche oggi, poche ore fa, che l'utilizzo di mascherine, per chi è sano e tutto questo è da stabilire, crea delle false certezze in qualche modo. Però ci si dimentica e utilizzarle in pubblico non è obbligatorio e soprattutto non crea, come dicevamo, delle certezze. Ma quello che io mi chiedo, per tutte le persone poi che sono tutti gli asintomatici, che hanno sì una forza minore di contagio rispetto a chi ha dei sintomi reali, ecco, esatto, e non è una sottovalutazione a suo modo di vedere. Capisco che non è bello mai da parte di nessuno, soprattutto del campo dell'OMS, parlare male, tra virgolette, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e poi mi chiedevo se a suo modo di vedere l'Organizzazione Mondiale della Sanità è arrivata in ritardo su alcune decisioni o se ha peccato di qualcosa di abbastanza importante. Grazie. Errare umano e l'OMS pure è fatta da uomini, quindi non è detto che ci abbia sempre azzeccato, come dire, sia in questa circostanza che in passato. però io direi che queste sono opinioni personali. L'OMS è un'organizzazione molto importante. Naturalmente a volte si può sottovalutare un aspetto di una... oppure si possono prendere decisioni sbagliate e magari correggerle dopo. Soprattutto quando abbiamo a che fare con virus nuovi come questo. è logico che col passare del tempo aumentino le conoscenze. Le mascherine, uno di quegli argomenti complessi, sembra facile, ma è complessissimo. Lo stesso CTS non ha preso ancora una posizione definitiva. Come l'OMS vediamo che volta in volta tende a cambiare un po' l'opinione. Perché? Perché intanto quando parliamo di mascherine parliamo di un'ampia gamma di barriere fisiche. Ci sono i dispositivi di protezione individuale, quelle professionali, diciamo, che servono per gli operatori sanitari in modo particolare per proteggersi da malari. Soprattutto quando si fanno delle procedure invasive che li mettono a rischio particolare anche di aerosol, di contaminazione via aerosol. Ci sono, dopo, mascherine chirurgiche che sono sempre dei presidi. Ci sono delle che comunque sia hanno un certo grado di filtraggio. Dopodiché uno può coprirsi la bocca con qualsiasi pezzo di stoffo o di carta. Allora, è vero quello che dice l'OMS. Se non si utilizzano, e non si utilizzano, la popolazione generale non è che va a utilizzare mascherine quelle degli operatori sanitari, dispositivi di sicurezza individuale. No. È chiaro che se si utilizzano mascherine chirurgiche o tanto più altre forme di barriera fisica queste potrebbero non proteggere la persona che è esposta ad una persona che magari tossisce, starnutisce o che parla a tre centimetri di distanza. Però le mascherine sappiamo che hanno una loro utilità, parlo di mascherine chirurgiche, nel fare da barriera alle goccioline di saliva che vengono emesse, per esempio da una parte di una persona sintomatica. Allora l'OMS dice che le mascherine vanno usate in modo particolare da persone magari che hanno sintomi che potrebbero essere infette per non contagiare gli altri. Se mi chiede un'opinione circa l'uso della mascherina, questa è un'opinione personale, ovviamente io le dico che se vado per strada sul marciapiede e non uso la mascherina, se devo entrare in un luogo pubblico in cui ci sono diverse persone e non c'è sufficiente distanziamento sociale allora tendo ad utilizzarla e ho piacere che altri la utilizzino. Naturalmente la misura principe però è il distanziamento sociale. L'OMS dice mette in guardia perché dice non è che voi usate la mascherina e dopo non vi distanziate socialmente e non vi lavate le mani. L'OMS dice prima cosa distanziamento sociale, lavaggio frequente e accurato delle mani, dopodiché se in luogo pubblico e via dicendo si usa la mascherina questa serve a proteggere gli altri, cioè a proteggere dalla saliva eventualmente infetta di persone sintomatiche che quando le indossano diciamo tendono a proteggere gli altri. Quindi è chiaro che se un luogo chiuso o affollato tutti usassero la mascherina probabilmente l'effetto sarebbe protettivo. Quindi non è un effetto di protezione individuale, è un effetto di protezione diciamo a livello di popolazione. Buonasera, Angelo Zaccone Teodosi per il riformista. Io torno sull'argomento diciamo del sommerso dell'epidemia se lo vogliamo così in qualche modo definire. quindi sui dati ancora incompleti e carenti. Ricordo che ancora oggi il Sistema Italia non ha diciamo informazioni su quanti sono i contagiati e i deceduti nelle residenze branziani, nelle case branziani e nemmeno per quanto riguarda i deceduti a casa e lasciamo perdere gli stranieri. Ieri pomeriggio il garante per le persone private della libertà personale, Maro Palma, ha aggiornato dei dati che erano stati già presentati una decina di giorni fa, una settimana fa, presso l'Istituto Superiore di Sanità. E secondo questo dato, che è un campione peraltro molto molto modesto, risulterebbe che sono morti nelle residenze branziani il 10% degli anziani che erano residenti in Lombardia e il dato stimato a livello nazionale è il 4%. Considerando che non esiste un database accurato di queste residenze per motivazioni che ci sono state anche spiegate in questa sede, il garante stima che le RSA in tutta Italia siano circa 4.700 e altri stimano che in totale, considerando anche le case branziani, arriviamo a un totale appunto di 7.000 per complessivamente 300.000 anziani non autosufficienti e parliamo soltanto di quelli non autosufficienti. Se applichiamo queste stime, quella diciamo della Lombardia a 10% o quella nazionale però il garante ripete che è un campione non rappresentativo del 4%, noi possiamo banalmente, tristemente calcolare che ci sarebbero dai 12.000 ai 30.000 decessi complessivi in questi ambienti. Allora la domanda è, com'è possibile che a distanza di settimane, perché l'allarme da parte dell'RSA è stato lanciato ai primi di marzo, non ci sia un monitoraggio di queste informazioni e soprattutto, seconda domanda, correlata, perché non si è deciso, visto che questo è il target primario, come ci è stato ripetuto tante volte dagli esperti, di mettere, di attivare un campionamento, un campionamento anzi di fare a tappeto, non a campione, i tamponi rispetto a questa fascia debole della popolazione. Ieri lo stesso Ministro Boccia nel pomeriggio ha dichiarato abbiamo chiesto alle regioni di comunicare tempestivamente queste informazioni alla protezione civile, però dopo un mese è veramente incredibile. Quindi la domanda è su il sistema informativo ancora deficitario e sull'opportunità di fare il tampone a tutti questi anziani. Grazie. Grazie della domanda perché è un argomento particolarmente sensibile questo e in questo momento noi vediamo effettivamente molti focolai, soprattutto in residenze assistite. Questo è il motivo per cui l'Istituto ha attivato una linea proprio di progettuale su questo. Lei lo sa perché l'ha citato prima, abbiamo fatto una conferenza stampa proprio la scorsa settimana, credo, sull'argomento c'era anche il garante. Il punto qual è? Che effettivamente noi abbiamo la popolazione anziana. Questo è chiaro e che è ad alto rischio una volta che contrae l'infezione. Naturalmente abbiamo una sottostima del numero di decessi nelle RSA. su questo è inutile negarlo e anche se non so se i numeri che lei ha dato siano accurati però una sottostima sicuramente c'è. La sottostima deriva dal fatto che evidentemente non viene fatto in alcuni casi il tampone, quindi non viene eseguito il test. E come lei sa vengono attribuite le morti, vengono attribuite al coronavirus se risulta un tampone positivo. Quindi che ci sia una sottostima è indubbio. Come c'è del resto, una sottostima che è proprio intrinseca a tutti i sistemi di sorveglianza anche però del numero dei casi, del numero degli asintomatici. Tanto è vero che noi diciamo per ogni caso probabilmente che viene riportato al sistema di sorveglianza ci sono dieci persone infette magari. Che è una buona notizia, non è una cattiva notizia questa. Quella della sottostima della mortalità della letalità è una cattiva notizia. Quella della sottostima degli infetti è una buona notizia perché vuol dire che ci sono molte persone in più infette che hanno anche superato la malattia ed hanno per fortuna probabilmente adesso un'immunità nei confronti del virus stesso e quindi questo tenderebbe ad abbassare il tasso di letalità. Allora è chiaro che siccome purtroppo noi sappiamo che ci sono molti casi in operatori sanitari e socio sanitari si sono verificati quindi sono scoppiati anche dei focolai all'interno delle RSA cosiddette e questo ha portato a volte a veri e propri cluster di casi, focolai, che hanno portato anche alla dichiarazione per esempio di zone rosse. Questo nel Lazio per esempio ce ne abbiamo tre ma un paio sono dovute proprio a focolai che sono scoppiati in RSA. A Codogno stesso dove l'epidemia era praticamente molto diminuita dopo un certo punto abbiamo un RSA preso e questo ha riportato su il numero di casi. Quindi io sono totalmente d'accordo che in questo momento va apposta grande attenzione anche perché probabilmente dopo che succede un operatore può andare da un RSA all'altra ad esempio e trasportare l'infezione oppure se la porta dentro casa e allora nasce un focolaio. Fanno da amplificatori un po' dell'epidemia quindi è necessaria una grande attenzione in questo momento all'RSA. Su questo non c'è assolutamente alcun dubbio e vanno fatti degli interventi di urgenza naturalmente. Anche il training degli operatori e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale è molto importante proprio perché bisogna arginare questo fenomeno. Solo una brevissima integrazione però sempre dall'indagine promossa dall'Istituto Superi Sanità con il garante, cioè questi sono dati di ieri, è ufficiale quindi non sono stime diciamo nasometriche. C'è un 87% dell'RSA in cui è in corso la ricerca che dichiarano la totale mancanza di dispositivi di protezione individuale. Il 30% dichiara la totale inesistenza di un piano strutturato di informazioni sulle procedure da seguire. Torno alla domanda. È tanto complicato, è tanto costoso applicare i tamponi a tutta questa popolazione debole? Sono 300.000 persone. Allora sui dispositivi non so se dopo voglio aggiungere qualche cosa. Per quanto riguarda i tamponi, ma naturalmente fare... Lei parla di corde in casa dell'impiccato. Fare diagnosi per me... Naturalmente fare tempestivamente i tamponi. Noi diciamo tamponi, sono i test. Il tampone è quello che serve dopo a fare il test. Mirati a persone che abbiano sintomi. Naturalmente è importante, così come qualora ci sia la fattibilità, è importante andare a farli ai contatti dei casi. Questo qua naturalmente può permettere di identificare subito i focolai e contenerli. E io penso che uno degli argomenti... Si parla tanto di fase 2. Io non so quando ci sarà questa fase 2 e come sarà. Assolutamente non aspetta neanche a noi deciderlo, no? Aspetta al governo. Però è chiaro che una cosa a cui teniamo particolarmente, questo proprio mi sento di dirlo, è riuscire ad essere tempestivi nella diagnosi e nel contact tracing, nel rintraccio dei casi, che sarebbero soprattutto i contatti dei casi laddove un focolaio è nascente. Perché questa è la misura migliore, la maniera migliore proprio per contenere i focolai nell'RSA naturalmente e anche nel territorio. Quindi rinforzare, diciamo, la medicina a livello di dipartimenti di prevenzione è fondamentale in questa fase dell'epidemia, certamente. Sui dispositivi vorrei dire che anche l'RSA, come il resto delle strutture sanitarie, hanno sofferto nelle settimane scorse, ma già dalla settimana scorsa la situazione è migliorata. Partiamo tutti quanti da un dato oggettivo. Nel nostro Paese non esiste e non esisteva, adesso si sta lanciando, sta crescendo, una produzione di questi dispositivi. E quindi nel momento in cui nel resto del mondo sono state chiuse le esportazioni, i nostri canali di approvvigionamento hanno sofferto. Oggi c'è stata la conferenza stampa del Commissario Arcuri, che voglio ringraziare perché ci sta sollevando tutti quanti da un compito molto gravoso e lui ha portato i risultati che stiamo conseguendo come Paese. Quindi sarà sempre più questo un non problema e mi auguro che quanto prima ci possa essere la completa soluzione della questione. Buonasera, Lorenzo Di Cicco del Messaggero. Volevo fare una domanda su un fenomeno finora sporadico che però si è registrato, e cioè quello di chi è positivo, poi effettua due tamponi consecutivi negativi, quindi sembrerebbe guarito e invece dopo poco torna positivo. Noi l'abbiamo raccontato oggi per la prima donna contagiata a Roma. Quindi vorrei capire qual è l'entità di questo fenomeno, se è davvero limitato o se ha margini di crescita e se questo inciderà anche sulle valutazioni per la cosiddetta fase 2. Grazie. Guardi, quando c'è incertezza è bene ammetterla. Noi naturalmente abbiamo delle conoscenze che sono cresciute moltissimo nei confronti di questa infezione virale, però è chiaro che ci sono ancora dei caveat, ci sono ancora delle carenze di conoscenza, delle carenze informative. Una di queste riguarda il periodo per cui una persona resta contagiosa. In casi eccezionali, nella maggior parte dei casi, entro 14 giorni all'incirca la comparsa dei sintomi e naturalmente se si fa un doppio tampone, il doppio tampone effettuato a distanza di 24 ore è negativo, la persona può essere rimessa tranquillamente in società. In società vuol dire sempre distanziata socialmente dagli altri e non è che deroga rispetto alle regole. In altri paesi, come in Inghilterra, voi avete visto il Principe Carlo dopo una settimana stava già spasso. In Svezia ti dicono stai male? Sì vabbè, se vuoi usci esci però non contagiare gli altri. Noi siamo più rigidi anche nell'applicazione delle regole. Non vorrei che si sottovalutasse questo fatto. Se non è comune mezzo caudio, ma fra i paesi europei l'Italia è sempre stata fra i paesi più rigidi. Ha applicato al massimo il principio di precauzione rispetto ad altri paesi europei. Il punto qual è? Che possono esserci dei casi eccezionali, naturalmente, che derogano dalla regola in cui una persona per esempio resta positiva per più tempo rispetto alle due settimane. I casi di o reinfezione o ritorno dell'infezione, come dire, sono casi eccezionali. Non sappiamo dopo se una persona per esempio che resti a lungo positiva sia ancora contagiosa quanto sia contagiosa. Questo perché? Perché questo virus, a differenza del virus della SARS, che era molto più cattivo dal punto di vista clinico, però era più facilmente controllabile dal punto di vista di sanità pubblica. Perché? Perché aveva il picco di escrezione virale a una settimana dopo la comparsa dei sintomi. Questo virus che dà una sintomologia, fortunatamente nella maggior parte dei casi, meno grave della SARS, anche se non sempre purtroppo, che fa però da un massimo di escrezione virale, quindi di contagiosità, all'inizio, un po' come l'influenza, sostanzialmente quando compaiono i sintomi. Quindi a mano a mano l'assunzione che si fa è che la contagiosità tenda a diminuire nel tempo. Quindi un tappone potrebbe restare positivo, ma a titolo molto basso. Cioè l'escrizione virale potrebbe essere molto bassa, tanto da determinare una non contagiosità del paziente. Quindi per riassumere sto parlando di casi eccezionali e in cui non c'è certezza che possano essere contagiosi. Buonasera, Paola Motta, Sky TG24. Ci risulta che sia in corso o stia terminando una riunione del Comitato Tecnico Scientifico con gran parte del Governo in videoconferenza, cioè sia il Presidente del Consiglio che gran parte degli altri Ministri. Ieri stesso il Presidente del Consiglio ha ricordato che avrebbe preso la decisione politica sul futuro degli italiani dopo il 13 aprile, dopo aver sentito le valutazioni e raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Quindi vi chiedo, da questa riunione è emerso qualcosa di chiaro, preciso? È stata una riunione soltanto preliminare, un'analisi sull'andamento della curva? Avete fatto una verbalizzazione su quelle che sono le vostre considerazioni? Allora, rispondo io. Si tratta di una consultazione che il Presidente del Consiglio dei Ministri e, come ha detto lei, molti Ministri hanno avuto con il Comitato Tecnico Scientifico. una riunione interlocutoria e una riunione che ovviamente rimane confinata a una consultazione. La decisione spetterà all'autorità politica, spetterà al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri nella sua collegialità. Sarà in quella sede, saranno annunciate ovviamente, le decisioni assunte e saranno date tutte le indicazioni che possono essere date, che dovranno essere date. E io sono convinto che saranno rese note al più presto e comunque tempestivamente rispetto alla data che è stata fornita, che conosciamo tutti, che è la data del 13 di aprile. Non so se vuole aggiungere qualcosa, Professore. Certamente vediamo una curva in diminuzione, una curva dei contagi in diminuzione. Stimiamo una diminuzione del numero di nuovi casi. Naturalmente io faccio l'epidemiologo. Ho sempre detto, ho detto anche pubblicamente, per cui per me chiudete finché non c'è il vaccino e va bene. Ma è chiaro che non può essere questa la decisione della politica, che è autonoma anche rispetto a ciò che i tecnici possono dire. Naturalmente credo che le valutazioni del CTS, come sempre, vengano prese in considerazione. Dopodiché sta la politica a decidere. Quindi le decisioni, anche se per quanto possibile basate su quelle che sono i pareri dei tecnici, saranno prese dal Governo quando sarà tempo di farlo, certamente. Quindi, scusi Dottore, la riunione di oggi ha di fatto definito le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico oppure ci saranno altre riunioni? Il Comitato Tecnico Scientifico continuerà comunque a riunirsi. Mi collego ovviamente alla domanda di Paola Motta a proposito del Comitato Tecnico Scientifico. Non chiedendovi quando ci sarà la nuova data, se ci sarà, quali sono le prospettive. Però vi chiedo, a seconda delle diverse competenze, sono Gianluca Semprini, Rai News, se state considerando dei parametri, se ci sono dei parametri legati alle età delle persone, se ci sono dei parametri legati ai territori. L'Italia non è tutto uguale per quanto riguarda questo Covid-19, bisogna dircelo. Ci sono città come Cremona che hanno un contagiato su 100, città come Livorno che hanno un contagiato su 1000, città come Ragusa che ne hanno uno su 10 mila. Cioè la Lombardia che ce n'ha 5 su 1000, la Campania che ce n'ha 5 su 10 mila. Allora voi, a seconda delle vostre diverse competenze, vi augurate che la decisione verrà presa sull'intero territorio nazionale o che ci siano dei parametri che possano considerare anche queste differenze territoriali che ormai mi sembra che si siano in qualche maniera cristallizzate. Allora rispondo prima io, poi il professor Rezza. Ci sono in corso delle valutazioni, quindi ogni considerazione è prematura. Nel momento in cui saranno, a mio giudizio, effettuate valutazioni dal punto di vista scientifico e valutazioni dal punto di vista anche di decisione politica, potremo parlare di queste decisioni. Al momento io non posso commentare alcunché e non ritengo opportuno commentare alcunché perché potrei essere assolutamente sconfessato nei ragionamenti che potrei fare che sono per la verità, per quello che mi riguarda, assai pochi. Ho visto che siccome c'è stato un modo di stizza quando ho detto il Comitato continuerà a riunirsi. Non era una risposta evasiva. È che il CTS continua a discutere questo tema perché non è chiaramente esaurito da questo punto di vista. La domanda che lei mi faceva è molto precisa. Per esempio, ci sono differenze geografiche all'interno del territorio italiano? Naturalmente. Però questo non vuol dire necessariamente, io le dico proprio come opinione personale perché il Comitato Tecnico Scientifico non si è ancora espresso su questo. Non vuol dire che siccome l'incidenza è bassa in un'area sia più facile aprire in un'area rispetto a un'area in cui invece l'incidenza è alta. Potrebbe valere questo ragionamento perché ci sono meno infetti quindi l'infezione fa più fatica a ripartire, magari. Oppure potrebbe valere il ragionamento opposto. Se in quell'altro posto io ho raggiunto un'immunità a livello di popolazione sufficiente a ostacolare la corsa del virus allora vorrei proprio riaprire di là. Non è così facile decidere sulla base di differenze di tassi di incidenza. Non so se ho reso l'idea. Perché ci sono sempre dei pro e dei contro. Naturalmente per quanto riguarda l'Istituto Superiore Sanità, questo sicuramente le posso dire, noi pensiamo che quella che sia dopo la raccomandazione che il CTS potrebbe fare e quella che sia la decisione dopo che il Governo dovrà prendere che sia improntata la massima cautela. Che comunque sia, anche se vediamo una diminuzione nel numero di casi, noi siamo sempre cauti. Perché? Perché il virus continuerà a circolare e naturalmente questo potrà portare a nuovi picchi nell'infezione, diciamo, di casi. Naturalmente, naturalmente, quindi qualsiasi decisione venga presa dovrà essere ispirata comunque a un principio di cautela, dovrebbero essere mantenuti comunque alcune misure fondamentali. Ilenia Petracalvina di Raiuno, la vita in diretta. Io mi ricollego un po' al tema dei tamponi, però guardando al Sud. Perché arrivano racconti di persone che sono in attesa di tampone, con anche delle positività in casa e magari convivono con una persona che è stata riconosciuta positiva, però ancora non vengono sottoposte a tampone. E il Sud, mi sembra, è vero che i numeri sono contenuti, ma è un Sud che va osservato con grande attenzione perché ballo un po', mi pare di capire. Allora volevo chiedere, perché questo problema? Perché la gente si lamenta di non avere a disposizione la possibilità di un tampone? Parlo del Sud, in questo caso è la Sicilia. Musumeci risponde che c'è anche un problema di reagenti. Mancano i reagenti e la risposta la dà anche il Piemonte che ha cominciato a produrseli da soli. Quindi l'altra domanda è non ci può essere la possibilità di omologare l'Italia, di unificarla. Se una regione produce reagenti magari potrebbe altre regioni del Sud fare lo stesso. Ma soprattutto perché chi ha tese di tampone non riesce a fare un tampone? Grazie. Io ritengo sia molto importante fare diagnosi subito. Non è un problema solo italiano. Io dico in Svezia voi potete aspettare anche dieci giorni. Dopo essere ospedalizzati vi dimettono con diagnosi di sospetto Covid e non mi fanno manco un test. Cioè nel senso è un problema generalizzato a molti, molti Paesi europei in questo momento. Per quanto riguarda la carenza dei reagenti è vera. Nel senso che si è verificata una carenza di reagenti dovuta alla competizione mondiale e europea sui reagenti. Nel senso che siccome c'era una certa produzione di questi reagenti che servono specialmente per l'estrazione dell'RNA che è preliminare al test molecolare di PCR, di amplificazione, questa carenza ha portato ad una competizione europea e mondiale sui reagenti. Quindi evidentemente il problema sicuramente c'era. Però io ribadisco, io ribadisco, io sono convinto che qualora e quando si passerà a una eventuale fase 2, qualunque sia questa fase 2, qualunque provvedimento si prenda, sarà necessario rafforzare la medicina di territorio e sarà necessario raggiungere diagnosi in tempi rapidi. Soprattutto nelle regioni del Sud. Io faccio un esempio. Guardi, i ritardi non si hanno solo nelle regioni del Sud, si hanno anche nelle regioni sovraccariche. Per esempio in Lombardia, laddove c'è stato un carico di malati enorme, era difficile fare i tamponi a tutti in tempi brevi. Nelle regioni del Sud, il Veneto è riuscito a farlo abbastanza tempestivamente. Nelle regioni del Sud è particolarmente importante perché è importante individuare immediatamente eventuali focolai. Quindi fare il tappone è sicuramente importante. Dopo di che i contatti dei casi, è chiaro che vanno comunque isolati. Dopo di che se si riesce comunque sia a fare un test è meglio. Però vanno comunque isolati se non manifestano sintomi. Se manifestano sintomi naturalmente è molto probabile che si rati di un contagio. Ma diagnosi tempestiva, rintraccio dei contatti, isolamento, sono tappe fondamentali di contenimento dei focolai. Però mi leggo solo a questo. Meno reagenti, meno tamponi, i dati che raccontiamo sono una parte. Ma in tutto il mondo, in tutta Europa, non è che noi raccontiamo dati che sono dimezzati. Noi lo diciamo, i dati dei sistemi di sorveglianza rappresentano una parte di tutte le infezioni. Anche 1 a 10. Non c'è problema, è assolutamente così. Ma non solo in Italia, ma state tranquilli. In Francia, in United Kingdom, negli Stati Uniti, lo era in Cina. È chiaro che c'è una sottostima dei casi. Questo necessariamente non è però necessariamente il problema maggiore. Il problema maggiore è individuare focolai di infezione e intervenire per contenerli. Se posso aggiungere una cosa sul numero dei tamponi, io non lo do. Ma siamo arrivati a 755.000 tamponi effettuati. Rispetto a ieri ci sono 33.713 tamponi in più. Credo che il nostro Paese sia uno dei Paesi, se non il Paese, che ha fatto più tamponi. Questo è il professore, il massimo esperto. Però ci tengo a dirlo che nel nostro Paese i tamponi si fanno. Si sono fatti tanti tamponi e si continueranno a fare i tamponi. Fermo rimanendo che anche noi abbiamo, nel Comitato Operativo, avuto notizia della difficoltà di trovare i reagenti e le regioni si sono attrezzate, si stanno attrezzando per produrli. Ultima domanda. Buonasera, sono Claudia Fusani per Fiscali News. Una domanda per entrambi. La prima è per il professore. A noi risulta che ci siano almeno due ministri che vi hanno fatto richiesta di avere questi modelli di cui ci state parlando. Sto ovviamente parlando della ipotizzata fase 2. Voi ci avete spiegato in questo periodo che esistono, che state lavorando su alcuni modelli, no? Come fare, come poter fare e poter riaprire. Ci risulta almeno due ministri che vi hanno chiesto di poter dare un'occhiata a questi modelli, però i modelli non ci sono. Allora, la domanda è, non è che per caso la comunità scientifica è così addentro a questa tragedia per cui non riuscite a sviluppare un modello unico? La seconda per il commissario è questa. Molto, come dire, un pochino più di sistema diciamo. Questo è un paese dove ormai ci sono le persone che se uno passa per strada perché deve andare a lavorare, non perché va a fare una passeggiata gratis. Ci sono persone alle finestre che dicono un tore o cosa del genere. Insomma, che paese abbiamo, come dire, questo paese cosa è diventato? Non sarebbe necessaria un'informazione anche meno allarmistica e drammatica per evitare questi eccessi? Grazie. Guardi, non so, la prima domanda che mi ha fatto è una, non so se è giudicata una fake news, cioè nel senso che ho fatto tre webinar fra ieri e oggi mostrando i risultati dei nostri modelli. Abbiamo fatto una conferenza stampa la scorsa settimana in cui abbiamo presentato i risultati dei nostri modelli. Stiamo facendo modelli di predizione, dopo si dice che i Ministri ce li chiedono e non diamo i modelli. Non lo so, perché ce lo chiedi? Mi sembra anche strano che il Ministro ce lo chiede l'Istituto non diamo i modelli. Il modello è stato presentato in Comitato Tecnico Scientifico, ma cosa dice? Non lo so, le hanno detto delle bagianate. E' stato presentato un modello in Comitato Tecnico Scientifico l'altro giorno, mi scusi, non riesco a capire. Comunque sì, la scorsa settimana abbiamo fatto una conferenza stampa anche in Istituto in cui abbiamo presentato i risultati del nostro modello, come questo modello fosse in grado di predire la diminuzione dei casi. Non capisco. Anche modelli di simulazione sono stati presentati dal Presidente Brusaferro l'altro giorno in Comitato Tecnico Scientifico. Non è che se un Ministro chiede un modello, si dà assolutamente. Non è che si faccia ostruzionismo nei confronti dei Ministri di questo Governo, mi sembrerebbe assurdo. Invece sul tema del rispetto delle regole credo che gli italiani abbiano dato una grande dimostrazione di rispetto di quelle che sono le disposizioni che sono state impartite. C'è anche un'attività di controllo cospicua, l'avete visto anche oggi, sono stati diffusi i dati dei controlli. Quindi è assolutamente necessario non mollare la guardia, non abbassare la guardia e fare il controllo. E mi permetta di dire anche una cosa. Credo che in questa attività debbano essere i mezzi di informazione, anche voi, ad aiutarci su questa attività. Perché molto spesso si tende a contrapporre una posizione rispetto ad un'altra, una tesi rispetto ad un'altra. Io credo che siano tutte quante rispettabili le diverse posizioni. che però ci sia un fondamento unico nel comportamento da tenere. Lo diciamo tutti. Bisogna in questa emergenza adottare le precauzioni che sono indicate lì. quindi su questo dobbiamo fare. Poi non dobbiamo... Lo vuole dire a me sulle mascherine. Se lo dice a me io non dico più nulla sulle mascherine. Quindi io la ringrazio di questa domanda. Perché io ho detto una cosa che ancora oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato. E lo dico perché, come dire, avendo una funzione, avendo un ruolo, lavorando in una condizione, fidandomi anche della scienza, ho fatto certe affermazioni. Quindi mi fermo qui. Basta così. Grazie, grazie ancora. Grazie. Grazie.